segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te allora e adesso affronteremo con tanti ospiti con tanti contributi molte sorprese il tema più complessivo della giorgia meloni governo ma la telefonata di giorgia meloni a orban ne abbiamo parlato finora otto e mezzo cosa cambia ma per ora non ancora nulla aspettiamo di capirlo diciamo che è un atto dovuto perché le immagini che abbiamo visto tra ieri ed oggi ci hanno scosso tutti quanti abbiamo capito che cos'è l'educazione urbaniana intanto l'ungheria è un paese dell'unione europea e abbiamo visto come avviene il sistema giudiziario di quel paese sappiamo che quella è un'autocrazia vera e propria che ha inciso sui diritti costituzionali delle opposizioni degli organi di garanzia li ha mutati non è più una democrazia l'ungheria ciò non di meno orban è uno dei più importanti amici e alleati di giorgia meloni